L'affidamento relativo alle attività del CUP, il centro unico di prenotazioni delle ASL d'Abruzzo, è scaduto e non si è ancora provveduto a una nuova gara d'appalto. Il bando prevedeva che l'appalto di durata triennale potesse essere rinnovato una sola volta per massimo un biegno, per una durata contrattuale complessivamente di 5 anni, per un valore di 53 milioni di euro. La questione era già stata sollevata dal consigliere regionale del PD Antonio Blasioli con un'interpellanza nel 2019. Ad oggi in tutte le ASL sono scaduti anche possibili sei mesi di proroga. Nel caso dell'ASL di Pescara la proroga è scaduta due giorni fa. Il tavolo richiesto dai sindacati con l'assessore regionale alla salute Nicoletta Verì non è mai stato convocato e il PD ha depositato in regione una seconda interpellanza. Ora si continua ad andare in proroga perché non c'è nessuna gara attualmente bandita dall'ARIC. Questo significa favorire naturalmente questo raggruppamento temporaneo di imprese, venir meno alla trasparenza e peraltro dobbiamo registrare che anche l'impegno preso di sentire i sindacati per diciamo decifrare in anticipo tutte le cose che non vanno nel precedente capitolato non è stato mantenuto, non sono stati sentiti, non è stata assicurata la salvaguardia del personale. Dal 2019 ad oggi sono state assunte circa 90 persone in più. Sarebbe stato meglio trasformare in full time i contratti del personale già assunto che continua a lavorare part time, sostiene Blasioli. Certo è che il servizio migliora se i lavoratori lavorano diciamo in maniera decente, magari lavorando spalla a spalla con uno stesso contratto collettivo nazionale del lavoro, invece si trovano assunti da un raggruppamento temporaneo di imprese, da imprese diverse che applicano anche contratti diversi, ma soprattutto sono ancora part time fino ad oggi. I sindacati continuano a chiedere un incontro con AIR che è assessorato per discutere anche di precariato e dell'esternalizzazione dal 2015 dei servizi del CUP che, dicono i rappresentanti dei lavoratori in un comunicato stampa, ha arricchito solo le aziende private aggiudicatarie. Si proceda subito a una nuova gara d'appalto, questa la richiesta del PD.